Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. È un gruppo di amici policisti che si trova a fare un po' di cose diverse. I pezzi che faremo stasera sono scritti un po' da vari componenti e arrangiati tutti insieme. L'idea che c'era venuta era di mettersi tutti insieme e di aiutare ognuno a realizzare un po' le cose che aveva scritto. La formazione di questa sera c'è Danilo Rea al pianoforte, Aresta Volazzi al basso, Giulio Cappiozzo alla batteria, Pasquale Vinieri alla chitarra, Luciano Francisci alla fisarmonica, Maurizio Gianmarco a sax, Giorgio Vivaldi alle percussioni e Mauro Pagani. Piero Brega E facciamo si chiama Equilibrio ed è di Piero Brega. E facciamo si chiama Equilibrio ed è di Piero Brega. E facciamo si chiama Equilibrio ed è di Piero Brega. e gli occhi si reticolano e spagnano la faccia saleva il tirolittico, scocchia dei tre polmoni una chitarra a pezzi, mi cade dalle mani e spazio dalla vergogna, volando sulla vespa basso con tutti i rossi, ci troppo sulla strada la rabbia e il dolore, mi infrontano la schiena macchina e la interspalano, dentro la mia passia la rabbia e il dolore, mi infrontano la faccia la rabbia e il dolore, mi infarto la mia chitarra sul palo della luce, scherce in legge plastica per terra sui miei geni, in mano trinco il marico le corne sbagliate, il piano dei dolori non vuole entrare e uscire il sangue della testa, mi spazio nelle orecchie e gli occhi si reticolano e spagnano la faccia il sangue di un tiro dittico, scoppiano i tre polmoni una chitarra a pezzi, mi cade dalle mani e spazio dalla vergogna, volando sulla vespa basso con tutti i rossi, ci troppo sulla strada la rabbia e il dolore, mi infrontano la schiena macchina e la interspalano, dentro la mia passia e la preparazione Grazie a tutti.